Ciao ragazzi al vostro Skynet95, bentornati e benvenuti in questo nuovo format di video che voglio fare allora questo è un video improvvisato che voglio realizzare e caricherò così com'è quindi forse ci sarà la intro, forse no, non lo so neanche io, la copertina non so come farla insomma voglio andare direttamente al punto, così proprio della mia idea allora, Farming Simulator uscirà un video anche su Farming Simulator uscirà un video su Farming Simulator che vedrete, non so se prima di questo o dopo di questo insomma io sto elaborando un po' di video nel tempo e poi cercherò di caricarli tutti allora ragazzi, saltando il discorso Farming Simulator, Lorenzo, ovvero io, ciao Skynet ha deciso, ok, che si procederà, ok, e procederò, ok, alla creazione di un gioco il gioco si chiamerà Reality Total Simulator, ok, il gioco avrà, sarà una cosa base, basissima, ok, dove ci saranno tre funzioni reali un terreno, ok, un campo, un solo campo, il gioco sarà così, uno spiazzo con un buco, ok, quindi con, vabbè, uno spiazzo, vabbè un terreno, ok, partiamo con quella delle basi, un terreno, ok, che si potrà modellare, quindi un terreno che è dinamico, ok con, ad un certo punto, ok, un campo, quindi una delimitazione, non lo so, un posto dove te puoi, ok, scavare io voglio iniziare a scavare, prima cosa, perché? Perché è più semplice, ok, intanto partire da una cosa che te togli la terra e riempi un cassone cassone finto, cassone non mi interessa, ok, l'animazione principale sarà un mezzo, quindi un escavatore, ok dove si potrà andare avanti, si potrà andare indietro, ci potremmo muovere lungo il piazzale, ok e praticamente avrà le funzioni reali, ok, quindi andrò sui mezzi, andrò a fare delle rilevazioni, ok penso di prendere tipo un gps, registrare immagini, ok, creare un modello, ok, un modello 3d vero quindi a dimensione tanto reale, un modello con le specifiche reali, con le funzioni reali, ok e praticamente te monti in cima al modello, vai in questo punto, ok, e scavi la terra scavi la terra, quindi l'animazione della penna, ok, che prende il cucchiaio, il riempimento del cucchiaio tac, la scarichi, basta, ok questo sarà il primo concetto e è quello che io metterò in atto, lo farò, penso più che altro da solo a meno che qualcuno non voglia dare una mano a Skynet, ok, e in due si fa anche prima perché tutto questo partirà dal momento che gli avrò preso il computer ora, nei prossimi tempi, ok, quindi si parla di un mese, da qui a un mese a questa parte, ok prenderò un computer, un computer portatile, perché non mi interessa a me il computer fisso in questo momento, non ho il posto dove mettermelo, sono in mezzo a un trasloco che sono nel casino, ok, quindi non ho posto per il computer fisso prenderò un portatile, un portatile che mi permetterà di editare, ok, di provare editare e provare quello, ok, che faccio e quello che creo allora, sempre secondo la mia idea, ok, ci sarà un editor scusate un editor andrà creato un editor, stile, stile, vi faccio un piccolo, ok, accenno di come sarà l'editor che voglio creare così vi do subito un'idea bella chiara e bella dritta ok, editor, quindi, icona, cioè chiamatela come vi pare eseguibile, ok, diciamolo così un eseguibile che te apri, ti si apre il menu, ok e nel menu vedi, ok, quello che è il terreno, ok, e la mappa nel menu vedi la mappa, la mappa così come riportata nel gioco perché sostanzialmente te la mappa che crei nell'editor la riporti sul gioco e praticamente il gioco è l'editor in versione giocabile così, questo è com'è farmi insieme un editor e sarà così anche il mio editor cercherò di prendere il punto per fare una cosa, ok, che se uno ci si mette dietro un mesetto, ok, crea, modella, forma, ok crea il mezzo e provalo passa un mese, passa un mese e mezzo, ok, la riesco a tirare fuori ripeto, poi se c'è qualcuno, ok, che mi dà una mano è meglio, perché soltanto, diciamo, la parte più difficile è creare il terreno perché l'editor si crea a codice quindi quello è il minimo ma è creare il terreno, un terreno che te puoi modellare è creare lo script per il terreno ora, posso provare e proverò sicuramente a mettere in atto il mio script ok, quindi prendere lo script che avevo e che ho ideato c'è il video fra i canali per creare un terreno non era dinamico ma nel mio sarebbe, quindi aggiungere lo script al terreno ok, faccio in termini programmativi e faccio per spiegarvelo chiaro quello che voglio fare, questo è proprio un'improvvisata se io vedete che non guardo sempre in camera è perché comunque sto anche riflettendo su come esplicarvi le cose e su come portare avanti la cosa e praticamente arrivare a provare, ok, questo reality reality, ok, sarebbe un gioco che te definisci da subito fin da subito simulatore, che però non ha a che vedere con i trattori aspetta, aspetta, perché se io, ok, invece di creare l'escavatore che il terreno lo scavo e basta, ok creo un trattore e ci attacco un aratro, ok che te il terreno lo ali, crei dei solchi, ok si muovi la terra e crei dei solchi la cosa cambia, perché la base per avere un terreno dinamico ce l'hai già lo spunto lo prendi da Cattle and Groups perché alla fine prendere e aprire Cattle and Groups e vedere come hanno fatto loro ok, perché quello è un concetto agriculturale io non devo, non dovrei prendere i file dalla Giants da Farming Simulator no, ma preferisco, ok, un gioco che ha già un concetto di terreno così quindi, se non così, simile, ok, quindi vedere e capire come loro hanno strutturato questo per un'agevolazione anche mia, cioè, io non voglio rubare niente a nessuno prendo spunto, ok, vorrò prendere spunto da altre cose perché sostanzialmente, ok, non ha senso, ok, andare a montare oppure potrebbe avere anche senso andare a prendere tutte quelle che sono le modifiche state fatte da me e dal team, ok, su Farming Simulator 17 per arrivare a quello che è stato il concetto di reality su un gioco che però non si chiama reality eh, invece, capito, cioè, il discorso mio va su quello sul fatto che il gioco si chiamava reality perché era la mia edizione ok, io ho creato un'espansione quindi ho espanso Farming Simulator 17 e ho creato un'edizione di Farming Simulator 17 che si chiama reality ok, molto semplice reality, reality total simulator chiaramente reality nel concetto agriculturale reale quindi il campo, quindi la cura del campo, quindi l'edegazione ok, era Farming Simulator 17 ma erano stati cambiati era stato cambiato il motori grafico sono stati fatti gli accorgimenti la Siason andava a influire sui campi c'era il valore dell'acqua sul campo su reality c'è il valore dell'acqua sul campo il campo te lo devi irrigare ci sono già i rotoloni ci sono già tutte queste cose le serre, ok, non sono high tech ma non sono neanche serre normali perché l'acqua gliela devi attaccare te alla pompa e alla serra ok, perché ci sono già le serre delimitate sul reality non lo so se ci sono sul canale, dovrò rivedere un po' di video che ho portato sul canale però nel gioco, ok, le serre non sono come quelle classiche posizionabili no, l'area della serra te la fai te questo già sul reality nel 2017 cioè, poi se nessuno ha mai voluto giocare reality se nessuno l'ha mai voluto provare non sono affari miei perché io vi ho rilasciato anche i download che adesso non sono più disponibili perché sono passati degli anni ok, però gente l'ha provata ci sono persone che l'hanno provato ci sono persone al quale io ho installato e ho passato giorni giorni perché si tratta di il primo utente, ok, non Rob, un altro utente al quale installai reality, ok, da computer a computer dopo che lui scaricò tutto e il gioco non partiva e c'era, è stato il primo vero, ok, passaggio di test da computer mio a computer di un altro utente ci fossero due giorni perché lui aveva il volante quindi dovete fare tutta la configurazione del volante tutti i tasti, aveva i joystick cioè, più per un discorso di configurazione perché lui giocava più realisticamente il gioco di me quindi mi adetta io al suo modo di giocare gli passai reality e secondo me questo utente c'era sempre adesso non mi ricordo come ti chiami ma se stai guardando questo video commenta, ok, e scrivi sì, ho giocato a reality poi vabbè, Roby ha provato la reality RobyMelo81, ok, il famoso RobyMelo81 ha provato la mia reality non lo so se l'ha giocata ma secondo me sì perché c'erano delle funzioni nuove c'erano tante cose nuove ci è voluto anche a lui un po' di tempo per installarlo sì e no, non mi ricordo gli passai il file download cioè, raga, il gioco c'è sempre stato ok, la base di gioco è sempre stata quella lì sin dal primi tempi io ho iniziato a creare un videogioco mio ok, quindi con la mia idea partendo dalla base di Farming Simulator casini, gente che ti critica gente che ti dice eh, ma te hai fatto un gioco sulla base di un altro gioco cioè, io ho fatto, ok la prima mod per Farming Simulator 15 adesso ve la racconto poi, in descrizione vi ci lascio il link per accedere al video che io feci di quella mod che dall'utente Miki978 ok, Miki, il famoso Miki di Farming Simulator Italia ok, vi descrisse come il mod dell'anno io avevo creato, ok, nel mio concetto avevo preso la Falla Omi avevo modellato come mi pareva la Falla Omi e andavi col trattore, ok, con il camioncino ok, ti mettevi, a un certo punto dai il camioncino senza che tu montassi sul trattore e te comandavi la Falla Omi e dietro ci potevi mettere quanti mezzi ti pareva ok, quindi avevo fatto il trattore con la faccia tiraterale il trattore riconosce il bordo della strada nel 2015 lo riconosceva c'è il video si creava la fila si creava l'effetto della fila il trattore era indipendente, ok automaticamente riconosceva gli ostacoli superava gli ostacoli cioè, era la Falla Omi però fatta da me ok, con i mezzi modificati ok, per creare ok, il pacchetto stradale e fu criticato perché io, Bono ho preso il camioncino di quello e l'ho modificato e non si può, ok allora non ci avete capito niente perché io non ho voluto fare la mia mod ok, per dire si sono grande la mia mod non è nata per dire io sono grande io so fare qualcosa e questo nessuno lo ha mai capito ok, io a livello di computer non so chi si doda si imbroda così si dice quindi sono una persona competente mi definisco una persona competente che però è arrivato al livello di competenza ok, dove io ho creato un motore grafico ho scritto il codice e ho modificato il codice sorgente di Farmizio Meto 2017 nel jar 2 di Farmizio Meto 2017 ci sono dei punti, ok, modificati con delle stringhe, ok che io ho scritto, ok preso, tagliato e rincollato molto semplice ecco come si fa una modifica al motore grafico cioè poi, ok che tu ci aggiungi lo shader che tu fai l'aggiornamento allo shader ma per i mezzi per dare le funzioni ai mezzi tramite così solo così lo potevi fare ok, e lo puoi fare sul Farmizio Meto quindi, ok poi è stato aggiunto uno script extra gioco quindi è stato aggiunto uno script scritto in lua ok, che però funzionava col gioco e praticamente io ho creato un particle per tutto il gioco ho creato un particle system per tutto il gioco quindi quelli valori calcoli che il gioco in più doveva fare quindi se oggi piove domani mi devi dire ok, che il campo aumenta di che ne so quantità d'acqua aumenta la quantità d'acqua del campo c'erano gli avvisi del comune il gioco aveva una sua politica io ho creato una politica per il gioco c'era la domanda in realtà c'è la domanda e c'è l'offerta c'è il commercio ok, a me mi chiama il comune arriva la notifica del comune il comune vuole 1000 kg di grano ok, una tonnellata di grano va bene, io carico il camion ok, gli porto al comune una tonnellata di grano ok, gliela scarico gli faccio la fattura il comune da solo il gioco me la paga è diverso il prodotto ha una scadenza ok, non c'è la catena del freddo su reality perché fare la catena del freddo è un casino cioè, cominciare a capire le funzioni per congelare l'alimento proprio c'è un conto ok, e dire che l'alimento scade ok, e a un certo punto ti va via lo butti via quindi o ti va proprio a male oppure diminuisce di quantità ecco questo era il concetto ma creare un nuovo tipo di questo punto di diciamo oggetto se possiamo definirlo un nuovo tipo di pesce quindi un pesce ok, che te devi che è vivo cioè, ecco diciamolo così che non è statico ma è dinamico un animale è perché ecco, un animale quindi te aggiungi un animale aggiungi proprio il pesce ok al gioco te puoi raccogliere il pesce tramite delle reti no ok, vabbè lasciamo a perdere tramite delle reti lo tiri su ok a quel punto lì il pesce è un animale quindi ha dei valori ha il valore che ne so sta bene ha il valore è malato che ne so quanto pesa quanto è grosso e la specie che è e te lo uccidi ok ma poi il pesce è un animale fresco quindi cosa ci fai o lo lavori subito quindi ci crei delle cose o altrimenti lo devi conservare perché se no va male ma conservare un animale ok un animale vivo quindi pesce cioè con i valori reali ok ci vuole un frigorifero e il frigorifero sul farmissimo lo devi creare quindi devi creare il frigo che ha un refrigerante perché te il frigo lo devi creare come oggetto posizionabile al quale puoi interagire con le mani quindi ovvero che ne so una bella propria cella dove te ci infili il pesce ok e lui si incatena da solo anche va bene faccio per sempre per farvi capire sta avvenendo un video abbastanza lungo però sto cercando di spiegarvi quello che è proprio tutto il mio concetto cioè io mi voglio distaccare da farming simulator perché tanto farming simulator ascoltatemi o si vedano dei veri progressi o altrimenti va lasciato lì parliamoci proprio papale papale palese palese cioè basta è un po' troppo tempo che si va avanti con le solite cosine pipipi pipipi insomma dai siamo nel 2024 ok credo che nel 2024 un gioco che si chiama farming simulator appunto debba cominciare ad avere dei concetti agriculturali punto però ritornando alla cima del discorso ok dal mezzo che scava al trattore che passa ok con l'aratro poi a quel punto lì si fa presto a iniziare a divulgarsi nella cosa perché appunto l'idea base è quella di creare un terreno che te puoi che puoi lavorare molto semplice proprio semplice all'inizio sarà semplice poi dall'inizio si passerà al resto se andrà come andrà cioè però questa è la mia idea e questa è l'idea che hai di Skynet quindi Lore che hai detto ok basta non ho più voglia di stare dietro a dover modificare file non file si fa una cosa nuova una cosa semplice si chiama reality e da questa cosa si andrà avanti vediamo come va comunque fatemi sapere sotto qualcosa la vostra vi ricordo di lasciare un commento un mi piace ok iscrivervi al canale se ancora non avete fatto attivando anche la campanella per quando escono nuovi video perché usciranno preparatevi perché usciranno nuovi video e niente dal vostro Skynet è tutto io vi ripeto tanto il tutto il summit del discorso l'ho fatto a cosa serve continuare a perdere tempo su una cosa che fino a che non c'è il gioco nuovo rimarrà quella e il gioco nuovo non si sa se sarà uguale a quello oppure no cioè no faccio una cosa per conto mio vediamo vediamo perché secondo me ok un terreno con un mezzo che te lo puoi scavare e un mezzo che te lo permette di arare ok è meglio di farmi il summit punto volvemoci chiaro ciao ragazzi grazie a tutti